Qualche speranza per il futuro c'è dopo un paio di anni di difficoltà legata al Covid. Oggi gli utai sembrano più fiduciosi a Cremona, anche se i grandi problemi rimangono irrisolti, come le misure fiscali e l'impossibile accesso al mercato cinese. E molti giovani, senza prospettive certe, rinunciano alla professione. Il mercato non è ancora, diciamo, ripartito. Ci sono delle avvisaglie, delle possibilità di ripartenza. Il momento è ancora di stanca, il mercato orientale praticamente è inesistente. È inutile negare che la luteria di Cremona ha avuto un boom in questi ultimi 30 anni, proprio perché il mercato orientale si era rivolto alla città di Cremona e ai luteria di Cremona per l'acquisto degli strumenti nuovi. La tassa d'entrata del nostro strumento in Cina è del 35%, per cui praticamente non esiste nessuno, farà mai spedire un violino. Per i giovani credo che sia stato un momento molto difficile questo. Credo che sia molto, in questo momento, sia molto complicato. Se non si è inseriti, non so, in un gruppo consortile come può essere il consorzio. Penso che sia una professione che va rivista e va, in un certo senso, ma anche ristrutturata. Si è dilattata troppo, il mercato degli ultimi 20 anni ha permesso questo. È chiaro che al primo momento di crisi c'è stata una contrazione violentissima. CNA chiede da tempo che gli strumenti musicali, in quanto legati alla cultura, possono beneficiare di un IVA inferiore. Sui prezzi degli strumenti, infatti, la misura incide in modo pesante. Stiamo cercando di riuscire a far abbassare l'IVA per gli strumenti musicali, perché se la musica viene considerata evento culturale e facente cultura, l'IVA per la cultura, libri e manifestazioni similari è il 4%. Per noi scendere dal 22 al 4% sarebbe un tocca sana, perché comunque i nostri strumenti, essendo fatti rigorosamente a mano, hanno un prezzo mediamente importante.